La filmografia è piena di scene come questa, dove è tangibile il legame che si crea tra il cane e il suo padrone. Oggi è la giornata internazionale dedicata proprio a questo animale, il cane, da sempre considerato il miglior amico dell'uomo. L'idea della ricorrenza nata nel 2004 ha più di un obiettivo, festeggiare sì ma soprattutto sensibilizzare contro l'abbandono. Da qui alcune campagne a tutela degli animali domestici come quella della polizia di Stato. Se non ti porto non parto. Quest'estate in particolare il problema dell'abbandono è riaffiorato, i canili sono tornati ad essere pieni. L'anno scorso invece nonostante si è verificato un boom di adozioni durante il lockdown, i nuovi ingressi nei canili sono stati circa 120.000. Urgente dunque trovare soluzioni anche perché in Italia si stimano circa 500-700.000 canirandagi. Per questo si punta a promuovere l'adozione di animali senza famiglia. Altro annoso problema sono gli allevamenti clandestini, i traffici illegali all'estero di cani e gatti di razza. Business che nel nostro paese coinvolge oltre 800.000 cuccioli per un giro d'affari da 300 milioni di euro all'anno. Secondo i dati raccolti dall'osservatorio Agromafie, lato oscuro a parte c'è da dire che tanto di buono è stato fatto. L'ente nazionale protezione animali nel 2020 ha assicurato assistenza a poco meno di 20.000 cani, quasi 8.000 quelli curati dai veterinari, 5.007 sono stati soccorsi o salvati. In giornate come questa è bene comunque ribadire che imparare semplicemente ad amarli basterebbe a cambiare le cose.